Autentico e magnificamente inattivo Attuale, Raggiolo è uno dei luoghi eccellenti del Casentino. Un borgo dall'immagine rara, di pietra e di silenzio. Nascosto nel cuore del Pratomagno, Raggiolo fu la piccola patria della castagna. Circondato dalla grande foresta, alto sui torrenti che lo circondano, Raggiolo ha radici millenarie e un nobile retaggio di fierezza, di confronto con le asperità della vita nel bosco, nelle transumanze in Maremma. Storie di Longobardi, di signori feudali e delle loro fucine di armi, e di una colonia di corsi qui insediatasi secoli or sono a ripopolare l'antico castello distrutto nel Quattrocento. Annoso, Borgo incantato, Raggiolo ha un sentore di lontananza che è raro trovare. Il silenzio è il salutare collante che insaporisce di serenità la cascata a valle, di case e orti, aperti su larghe visuali sullo sfondo del profilo della verna, con i vicoli selciati che hanno il sentimento del sentiero e si inerpicano e scendono come viottoli di montagna. La quiete e l'atmosfera sospesa segnano la qualità del luogo. Plasmato secondo la misura degli antichi mestieri e risparmiato dall'usura del nostro tempo, Raggiolo rimanda un sentimento di meraviglia e di ritorno alle origini. Bellezza e nostalgia ne sono la cifra distintiva. Ci si trova così a varcare la soglia del presente, mentre il campanile rintocca, e la vicina foresta, viva e mobile alla carezza del vento, alimenta un fascino di arcana magia, in cui si manifesta, con una latenza potente e sepolta, lo spirito del luogo. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!